Lo scenario sarà l'ex campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia e qui che domenica 18 ottobre alle ore 18.30 andrà in scena lo spettacolo Mio Cognato Mastrovacnic, scritto da Ciro Lenti per la regia di Adriana Tomann. Mette in evidenza l'incontro tra la cultura mitereuropea di un polacco che viene in Calabria praticamente a rifugiarsi dentro a Ferramonti per sfuggire alle persecuzioni naziste e gay. E in quanto gay si trova a dover fronteggiare anche l'ostruzionismo e i pregiudizi che ha un altro internato che è stato messo all'interno di Ferramonti perché aveva commesso un altro genere di reato molto più banale, insomma aveva rubato. Questa è una persona del luogo e dice come faccio io a restare internato in questa baracca dove ci sono degli omosessuali, cosa diranno nel paese di me? Questo è il senso dal quale si parte. Questo razzismo che sembra così granitico poi a volte viene meno semplicemente per empatia perché si conosce invece un'altra persona e quello che è un pregiudizio viene meno semplicemente andando al bar o conoscendo l'altra persona. Cioè quello che mi interessava evidenziare è che tante volte le nostre barriere mentali noi riusciamo a superare nel momento in cui creiamo un rapporto empatico con l'altra persona. E in questo noi del sud possiamo dare lezione a chi invece fonda il suo stile di vita più sul ragionamento, più sulla logica. Noi siamo emotivamente più espansivi. Lo spettacolo è prodotto dall'Associazione Culturale Arciere e distribuito dalla Fondazione Lilli. I protagonisti sono Marco Silani e Paolo Mauro. Mi onoro di aver lavorato con due attori meravigliosi che mi mettono in condizione di poter ridurre al minimo le esigenze di regia perché quando si ha la possibilità di lavorare con persone che recitano così bene con attori di questo livello non c'è bisogno di molte cose.